Questa sera di studio abbiamo Lorenzo Ziri, presidente del Centro Studi La Voce. È venuto qui a trovarci perché sta organizzando un evento molto interessante, in programma per il venerdì 11 maggio a Montevacchi. Di che cosa si tratta Lorenzo e qual è il tema della serata? Il 9 di maggio di 40 anni fa il corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, fu ritrovato in via Caetani a Roma. L'intendimento del Centro Studi La Voce e dell'Associazione Collegamento Sociale Cristiano Supplemento d'Anima è quello di ricordare la figura dell'accademico, del giurista, ma soprattutto del politico e dello statista. Egli infatti fu uno dei fondatori della democrazia cristiana che rappresentò all'Assemblea Costituente, ne fu segretario politico e presidente del Consiglio Nazionale. Ma l'intendimento del Centro Studi La Voce e dell'Associazione Collegamento Sociale Cristiano non è soltanto quello di un semplice ricordo, ma intende fare una comparazione analitica fra quella che era la politica ai tempi di Aldo Moro e quella che è oggi. Il ruolo della rappresentanza, la possibilità che avevano i cittadini elettori di scegliere i propri rappresentanti nelle istituzioni. Gli ideali che animavano coloro che si impegnavano in partiti dove la partecipazione, la condivisione, il metodo democratico erano fondamentali. Aldo Moro era un cristiano impegnato in politica e ha pagato con la vita per le sue idee. Che cosa è rimasto oggi di quell'esperienza politica che tanto ha dato a questo Paese? È opportuno che i cristiani che si impegnano in politica si ritrovino in un partito identitario, non fondamentalista, aperto a tutti, dove il riferimento è la dottrina sociale cristiana? Di queste cose vogliamo discutere e ci vogliamo confrontare perché il Centro Studi La Voce e l'Associazione Collegamento Sociale Cristiano Supplemento d'Anima intendono coltivare un seme che sperano germogli e possa rappresentare un nuovo inizio per questo Paese di cui crediamo ha oltremodo bisogno.